Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un radicale cambiamento nella nostra società, che si riflette specialmente nei reali bisogni che i lavoratori cittadini manifestano quotidianamente. Ciò si scontra con l'eccessiva spinta da parte del Governo di un cambiamento organizzativo e regestionale della pubblica amministrazione, intraprendendo percorsi di telematizzazione avviati già dal 2010, che hanno inevitabilmente determinato un forte disagio, soprattutto per le fasce più deboli, poco inclini alle nuove tecnologie. Il sistema patronati è il soggetto di riferimento per milioni di cittadini che si trovano necessariamente costretti ad usufruire dai nostri servizi per vedere garantiti i loro diritti. Il primo grande banco di prova del percorso di telematizzazione è avvenuto nel gennaio del 2010, per le domande di invaita civile. Tale processo è stato caratterizzato da una serie di problemi di ordine tecnico e informatico, di disservizi e malfunzionamenti della procedura, tali da aver creato molti e gravi problemi nella tutela degli assistiti. Dal 2012 registriamo una nuova attenzione dell'Inps che ha risolto, anche a seguito di nostre sollecitazioni, molti degli ostacoli di tipo tecnico e informatico, provvedendo alla rivisitazione dell'intero sistema di procedure telematiche. In questo ambito rimangono comunque irrisolti i problemi legati al malfunzionamento delle ASL sotto il profilo del collegamento telematico con l'Inps per la convocazione contestuale a visita medica all'inoltre della domanda. Per quanto riguarda le domande di riconoscimento dell'invalidità civile, queste sono ormai gestite dal sistema patronati per il 95% dei casi. Per l'anno 2012 l'Inas di Bergamo ha registrato l'invio di 3.500 domande di prestazioni di invalidità civili con la relativa concessione economica. La crisi economica ha inasprito ancora più il disagio sociale, una crisi che ha colpito e sta colpendo pesantemente molte aziende con notevoli ripercussioni sull'occupazione. Il naturale fenomeno che si produce è la necessità impellente di migliaia di ex lavoratori di ricorrere alle prestazioni temporanee a sostegno del reddito, garantita dal nostro welfare, mobilità, disoccupazioni e attualmente l'Aspi. Da qui il secondo grande banco di prova per i patronati, che ha riguardato il processo di telematizzazione delle domande di disoccupazione e mobilità, processo che ha iniziato in via esclusiva dall'aprile dello scorso anno. Per l'anno 2012 l'Inas di Bergamo ha inviato telematicamente all'Inps 7.500 domande di disoccupazione e 1.026 domande di mobilità. Il patronato di Nascisle dall'inizio del processo di modernizzazione e riorganizzazione dell'Inps si trova a far fronte all'aumento di domanda da parte dell'utenza. Per la realizzazione del suo processo di riorganizzazione l'Inps ha scelto come rete esterna privilegiata il patronato, che ha funzione, ruolo e compiti di rango costituzionale. La legge 152 del 2001 qualifica i patronati come persone giuridiche di diritto privato, che svolgono un servizio di pubblica utilità e ad essi ha affidato in funzione di informazioni, assistenza e tutela anche con potere di rappresentanza dei singoli cittadini italiani e stranieri per il conseguimento di prestazioni di materia di sicurezza sociale. La Corte Costituzionale individua poi nei patronati strutture operanti nel campo previdenziale, direttamente riconducibile a quelle previste dall'articolo 38 della nostra Carta Costituzionale, articolo 38, quarto comma della Costituzione, cioè di organi ed istituti predisposti o integrati allo Stato per la protezione dei diritti in campo previdenziale, protezione costituzionalmente riservata allo Stato stesso. La rete dei patronati si è presentata particolarmente appetibile come rete di servizi privilegiata delle amministrazioni pubbliche per ruolo, per esperienza e reputazione. In buona sostanza le amministrazioni pubbliche hanno spostato sui patronati un pezzo fondamentale del proprio processo produttivo, quello relativo alla raccolta e all'invio delle domande di prestazioni che ha prodotto per le pubbliche amministrazioni risparmio ingente di risorse umane ed economiche. È opportuno segnalare ormai che il 98% delle domande vengono inviate per via telematica dal sistema patronati, agli enti previdenziali e in modo particolare all'Inps che ha assorbito I-Post, IMDAP e EMPALS. Ciò significa che il patronato si trova a gestire contemporaneamente da un lato un afflusso molto più consistente di cittadini ai quali deve garantire adeguata tutela, dall'altra a dover modificare i processi di lavoro consolidati in virtù dei cambiamenti organizzativi degli enti previdenziali. Tutto questo processo di telematizzazione e questo aumento di affluenza si è andato ad aggiungere ad un'attività ordinaria che l'Inas e i suoi operatori hanno sempre svolto e continuano a svolgere nello spirito di servizio che caratterizza la nostra opera quotidiana. Servizio caratterizzato a competenza tecnica e professionale qualificata. Concedetemi questa occasione per ringraziare il grande lavoro svolto dagli operatori dell'Inas di Bergamo e dai collaboratori volontari dell'FNP per l'impegno, la dedizione e la professionalità che giornalmente elargiscono il lavoro quotidiano. Lavoro che ha portato per l'anno 2012 ad un ancremento d'attività finanziabili del 12%, attività oltretutto soggetta a controllo da parte dell'ispietro del lavoro. Nel corso degli ultimi anni il panorama previdenziale è stato caratterizzato una serie di rilevanti vicendi legislative che hanno creato non pochi problemi di consulenza in tutte le nostre strutture sul territorio per l'orientamento delle scelte pensionistiche dei nostri assistiti. Inoltre, dall'entrata in vigor della legge di riforma Monti-Fornero che ha profondamente innovato il panorama previdenziale italiano sono scatolite una serie di problematiche una su tutte la questione esodati che sapete benissimo è ancora una questione aperta. Il 2012 è stato anche l'anno della riforma del mercato del lavoro la legge 92 del 2012 con la quale vengono introdotte dal gennaio 2013 nuove misure cioè l'assicurazione sociale per l'impiego ASPI e mini-ASPI con la funzione di erogare un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Le novità sono molte e richiedono quindi al nostro istituto un impegno molto consistente per diffondere fra tutti gli operatori la conoscenza delle nuove regole in modo da continuare in maniera qualificata e competente il nostro lavoro di tutela nonché tutti i cambiamenti che vengono apportati alle procedure telematiche per la richiesta da inviare all'Inps. L'attività dell'INAS non riconosciuta ai fini del finanziamento è aumentata in modo esponenziale generando un incremento di lavoro per gli operatori che quotidianamente sono impegnati allo sportello ma non riconosciute economicamente al nostro istituto non soffermandoci troppo sul comportamento di alcuni patronati poco inclini a svolgere tutta l'attività ministeriale aumentando ancora di più il lavoro dei soggetti consci degli obblighi di legge e soprattutto di ciò che è sottoscritto sottacitamente con l'utenza è evidente come in Italia le nostre sedi siano prese a salto dalle persone che vedono in noi l'unico soggetto riconosciuto in grado di garantire gratuitamente un servizio un aumento costante di contatti significa certamente per l'INAS e per tutta la CISL un'opportunità un'opportunità che deve tuttavia essere gestita in un diverso modo mettendo in campo strumenti di lavoro nuovi e innovativi ma soprattutto definendo un nuovo modello organizzativo cooperativo che coinvolga sia le federazioni sia l'UST va dato atto che un supporto economico viene dalla CISL di Bergamo che si concretizza in comandi gratuiti di operatori ed inoltre il modello organizzativo di Bergamo è di esempio per altra realtà in funzione della riorganizzazione l'INAS si è presa in carico gli oneri di due operatori in posizione di comando funzionali alle nuove attività prestazione sostegno al reddito e permessi di soggiorno nonostante l'INAS e ho quasi finito abbia raggiunto buoni risultati di attività e i positivi di tali bilancio non si deve abbassare la guardia ma cercare sempre di adeguarsi ai tempi e di non subire i cambiamenti passivamente specialmente in questi tempi di crisi che vede sempre più attacchi da più parti a questo istituto nato per far fronte alle richieste di tutela dei più poveri e da che da più di 60 anni aiuta a rendere esigibili i diritti dei cittadini siano essi lavoratori pensionati disoccupati cittadini italiani e stranieri è necessario quindi continuare la collaborazione con l'insieme dell'organizzazione offrendo ai lavoratori pensionati possibilità e opportunità tali da garantire loro informazioni conoscenze e consulenza utili ad ottenere diritti e prestazioni sociali che realizzi attività per l'INAS e favorisca il consolidamento del tesseramento e la scelta dell'adesione alle categorie della CISL buona continuazione del lavoro a tutti e grazie per l'attenzione